Io sono ragazzo di 38 anni, sono giovane e sono nato con l'educazione e con il rispetto che si deve avere per le persone anziane, che un po' si è perso, vedo anche tantissimi ragazzini oggi qua, è che bisogna avere rispetto per le persone anziane, perché penso che hanno un vissuto, hanno insegnato l'educazione ai loro figli e dopo non è un difetto essere anziani e penso che tante volte ce lo dimentichiamo per gli atteggiamenti che vediamo nel quotidiano e penso che già non è un bel vivere, perché essere anziano sicuramente la persona anziana ha tante problematiche, la quotidianità, il fatto di poter trascorrere una giornata dopo che anche delle patologie come queste, come l'Alzheimer, non è facilissimo e penso che tante volte quando si è giovani venire qua e stare a contatto anche con chi non se la passa bene sicuramente può far bene anche i giovani e per me sicuramente è un onore essere qua e sono molto contento di trascorrere un po' di tempo con tutti voi e vi raccomando non mollate perché se avete, penso che quando si è a contatto con le persone che hanno una certa età sicuramente chi ha voglia di ascoltare potete ancora insegnare tantissime cose. grazie a voi